dell'intero Paese. Il nostro Paese in Unione Europea, la tutela del consumatore, ha due cruciali ragioni d'essere, anche se distinte ma intimamente connesse. La prima è porre al centro del mercato unico il consumatore, dunque la persona, garantendo l'effettività dei diritti individuali e collettivi. L'altra è rimettere in moto la crescita dopo la lunga stagione della crisi, restituendo ai consumatori allo stesso tempo forza e fiducia nell'economia europea.